Musica Franceschini a Napoli investire sulla cultura. Il ministro è intervenuto agli stati generali della cultura. Nessuna terra come la campagna. Lo dimostra il caso Pompei, modello ora per il mondo e per la spesa dei fondi europei. Al San Carlo l'incontro con l'Isner, stretta di mano tra De Luca e De Magistris. Reddito di cittadinanza a cinque contrabandieri. Percepivano l'assegno subito sospeso i cinque indagati accusati di far parte di una banda di contrabandieri di sigarette. Sgominata stamane dalla Guardia dei Finanza. Il blitz nei comuni del lago Nocerino Sarnese eseguite 12 ordinanze. Rogo di Casalduni c'è una regia criminale. La denuncia del ministro dell'Ambiente Costa dopo l'incendio nello stir del Sannio avvenuto a pochi giorni di distanza dal rogo dell'impianto di Santa Maria Capuavetere. Episodi non casuali. Sentenze pilotate, mai preso denaro. Il giudice Mauriello si difende nell'inchiesta condotta dalla Finanza alla Commissione Tributaria di Salerno. Mai avuto benefici economici o di altro genere. Ma il quadro accusatorio che emerge dalle intercettazioni resta interrogatorio in carcere per Casimiro Lieto. Casalesi in Romania è il tesoro del BOS dopo l'arresto a Capodichino di Vincenzo Inquieto. Braccio destro del capoclan Michele Zagaria. Gli inquirenti stanno verificando gli investimenti sospetti compiuti dal BOS casertano nel settore immobiliare. Schiuma nel fiume denunce in Irpinia nelle acque del sabato è ricomparsa la schiuma bianca. SOS del Comitato Ambientalista, Mazza, Cusa servono interventi concreti contro gli scarichi abusivi. Giovedì viattice in prefettura vietato abbassare la guardia. E questi erano i nostri titoli. Buon lunedì dal Tg regionale del canale 696. In apertura gli stati generali della cultura aperti a Napoli dal ministro Dario Franceschini che ha detto che la campagna è una regione unica al mondo. Se si investe qui tutto diventa possibile. Sentiamo. Il sud è fondamentale per i beni culturali italiani e per le industrie culturali creative. Dario Franceschini torna a Napoli da ministro del nuovo governo giallorosso con il presidente De Luca e il sindaco dei magistris a aperto gli stati generali della cultura nel teatrino di corte di Palazzo Reale. Investire su una regione che investe su se stessa. Io lo dico senza... non è che lo dico perché sono qua a Napoli, in Campania, lo posso dire in qualsiasi... lo dico in qualsiasi altra parte d'Italia. non c'è regione al mondo, non in Italia, non c'è regione al mondo che abbia la stessa potenza culturale di questa. Patrimonio di arte, di paesaggio, di bellezza, di archeologia, di mare, di creatività, di teatro, di storia, di borghi, di città d'arte, di cinema, di musica, di sole. Non c'è un posto al mondo che abbia questo patrimonio. E allora se è così, se è così, tutto si investe qua e tutto diventa possibile. Quindi io voglio dire soltanto questo, investite su voi stessi. Io non soltanto starò al vostro bianco, ma starò in mezzo a voi per investire in questa battaglia in cui il futuro si crea sulla bellezza. È stato il governatore De Luca ad aver fortemente voluto questa iniziativa. La regione ha investito negli ultimi anni mezzo miliardo sulla cultura. Napoli offre più di Milano, dice il governatore, che annuncia anche la creazione del polo del cinema nell'ex base nato di Bagnoli. Franceschini, prima di rientrare a Roma, ha incontrato il soprintendente del San Carlo, Stefan Lissner. In questa occasione i più attenti hanno anche notato una inedita stretta di mano tra De Magistris e De Luca, che solitamente si ignorano. Già dopodomani il ministro tornerà in Campania, negli scavi di Ercolano, per l'avvio del cantiere di restauro della Casa del Bicentenario. Contrabbandavano sigarette, ma percepivano anche il reddito di cittadinanza. 12 le persone indagate nel blitz di Procure e Guardia di Finanza a Salerno. Sentiamo. Dai paesi vesuviani alle piazze dell'agro nocerino sarnese, come Scafati, San Marzano e comuni limitrofi, sono 12 le persone indagate nell'ambito dell'operazione condotta da Procure e Guardia di Finanza di Salerno. Di queste, 9 sono finite in carcere e 2 domiciliari, mentre per un'altra è scattato il divieto di dimora. Contrabbandavano sigarette dall'est Europa e dalla Cina, ma intanto 5 di loro percepivano anche il reddito di cittadinanza. Gli investigatori contestano l'Associazione per delinquere, finalizzata al contrabbando di sigarette. Questa è una diretta conseguenza del fatto che le persone arrestate ufficialmente non svolgono alcuna attività che consente di guadagnare dei redditi. Sulla base quindi delle evidenze ufficiali hanno potuto presentare la documentazione e chiedere di accedere a questo beneficio. Fortunatamente però la legge che disciplina il reddito di cittadinanza appronta anche i rimedi necessari per risolvere queste anomalie, perché la legge di conversione del provvedimento istitutivo contempla l'obbligo di sospendere l'erogazione del contributo quando il beneficiario viene sottoposto a una misura cautelare. Due nuclei familiari a gestire un traffico fiorente, quello del contrabbando, con 12 arresti. Le associazioni dedicate al contrabbando storicamente hanno sempre avuto una matrice familiare. Il contrabbando che si pensava essere un fenomeno ormai finito invece è tuttora florido sul territorio campano e lo attesta proprio questa indagine che ha accertato che in circa tre mesi queste due famiglie hanno movimentato oltre 3.000 kg di tabacco lavorato estero. Si tratta ormai di una pratica illecita, familiare nei nostri territori. C'è una regia criminale dietro i roghi negli stir dei rifiuti in campagna. L'allarme lo ha lanciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa dopo l'ennesimo incendio che si è registrato nel Sannio a Casalduni, proprio nella piazzale dello stir. Ci sono volute più di 24 ore per spegnere le fiamme. Vediamo. C'è chiaramente una strategia criminale in atto nel settore dei rifiuti in Campania. Siamo in guerra. Questo l'allarme è lanciato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa dopo l'ennesimo incendio divampato ieri notte in uno dei capannoni dello stir dei rifiuti di Casalduni, nel Sannio. Peraltro fermo da oltre un anno dopo il devastante rugo dell'agosto del 2018. Un quadro allarmante, quello prospettato dal generale Costa anche dopo l'incendio della scorsa settimana del deposito dei rifiuti a Santa Maria Capoavetere. Quando i criminali sfidano lo Stato, ribadisce Costa, lo Stato deve rispondere unito con tutta la sua forza. Nel Sannio intanto, nella tarda serata di ieri, sono terminate le operazioni di spegnimento del maxicumulo di rifiuti che per causa ancora in corso di accertamento è stato interessato dal rugo. I pompieri, dopo circa 24 ore di lavoro, hanno infatti completamente estinto l'ennesimo incendio e le Gambiente Campane e del Circolo di Benevento intervengono dopo l'incendio e lanciano un monito alle istituzioni. Noi stiamo vivendo un'emergenza che ormai è diventata episodica, è diventata quasi l'ordinarietà, è diventato un qualcosa di costante. E questo francamente è intollerabile perché è il terzo incendio a Casalduni, ce ne sono stati altri a Caserta, il che lascia presupporre che dietro ci sia una strategia. Prima ancora che da attivisti e ambientalisti, proprio da cittadini, dobbiamo riscuoterci e dobbiamo chiedere l'intervento delle istituzioni. Ero una pedina nelle mani della Commissione, non sono mai stato agevolato economicamente. Si difende il giudice tributario Antonio Mauriello, arrestato nell'inchiesta per le sentenze pilotate a Salerno e si difende davanti al GIP. Intanto oggi c'è l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Celi per Casimiro Lieto. Sentiamo. Il giudice Antonio Mauriello, nel giro delle sentenze pilotate, non ha ricevuto alcun vantaggio economico, nelmeno nel caso della sentenza sulla multa da 960 mila euro alla Sidigas. Al magistrato che lo ha interrogato, ha spiegato invece che pur essendo da un decennio consulente della Sidigas, non c'era mai stata una parcella versata a suo favore. D'altra parte, De Cesare ha una pendenza da 70 milioni con il fisco, quindi la risoluzione di un contenzioso da meno di un milione appariva poca cosa. Il giudice Mauriello ha risposto a ogni domanda, chiarendo la sua estranetà rispetto al quadro accusatorio che lo vedeva il dominus indiscusso. Inoltre, nulla c'entra alla nomina del figlio del giudice Mauriello come presidente dell'Avellino Calcio, atteso che i fatti contestati si sarebbero verificati tra il 2016 e il 2017, mentre il gruppo Sidigas ha acquisito il titolo dell'Avellino Calcio solo ad agosto 2018. Anche nel caso di Casimiro Lieto, che sarà interrogato oggi pomeriggio nel carcere di Regina Celi, Mauriello si difende. Nessun interessamento o altri vantaggi da parte dell'autore televisivo. Tra l'altro, l'intera vicenda, Mauriello la spiega come una forma di consulenza amichevole a seguito di una sentenza di primo grado che era già stata favorevole a Lieto e che attendeva appunto la definizione. Si tratta di un quadro che viene fuori dalla fase investigativa che consentì nello scorso maggio di arrestare tra gli altri Naimoli e Spano, altri due magistrati. E sono loro a confermare che Mauriello, prima dal giudice della sezione di Salerno della Commissione Tributaria e poi anche da componente dell'Organo di Autogoverno della Giustizia Amministrativa, ha continuato a pilotare ricorsi di società a lui riferibili o comunque di interesse professionale per il suo studio legale e commerciale. A Capodichino arrestato, il braccio destro di Michele Zagaria era lui ad occuparsi del tesoro immobiliare dei Casalesi. Vediamo. Gestiva centinaia di case del padrino in Romania, lo hanno ammanettato al suo rientro in Italia a Capodichino. Vincenzo Inquieto, 51 anni, non aveva solo ospitato nel segreto di casa sua. Il capo del clan dei Casalesi, Michele Zagaria, che ricercato dal 1995, venne arrestato il 7 dicembre del 2011, ma addirittura gestiva, custodiva e amministrava il suo tesoro con il fratello. Ora dovrà rispondere di associazione camorristica. Ieri il blitz in aeroporto. Inquieto è un imprenditore casertano, gestiva all'estero l'impero del Bosso, un impero fatto di immobili, creato per conto di Zagaria, dal fratello Nicola Inquieto, arrestato lo scorso anno. Proprio in casa di Vincenzo Inquieto era stato allestito il bunker di Zagaria. Venne arrestato all'epoca come fiancheggiatore. Pochi giorni dopo, anche la moglie, Rosaria Massa, finì in carcere per favoreggiamento con l'aggravante mafiosa. Era uscito nel 2015. Un collaboratore di giustizia, Generoso Restina, aveva svelato i rapporti tra la famiglia di Inquieto e quella di Zagaria. Inquieto durante la latitanza, oltre a provvedere alle necessità del Bosso, ne recapitava i pizzini. Negli anni, grazie a quel rapporto, sarebbe riuscito ad avere appalti. Un rapporto di fiducia totale, quello di Zagaria, nei confronti dei fratelli Inquieto, tanto da affidare nelle loro mani i proventi delle attività illecite da reinvestire nel mercato immobiliare proprio in Romania. Con l'arresto dello scorso anno, la DIA aveva sequestrato un patrimonio immobiliare fatto di 400 appartamenti in Romania, per un valore complessivo di decine di milioni di euro. Michele Zagaria, intanto, è ancora in carcere e non ha intenzione di collaborare con la giustizia. Lui, il Bosso, ha ripetuto più volte che non cederà. L'inchiesta sul nuovo clan partenio ad Avellino. C'era anche il procuratore aggiunto Vincenzo Donofio nel mirino del Bosso. Intercettato nell'indagine, il Bosso diceva lo uccido. Un procuratore scomodo che già in passato ha dimostrato di dare fastidio. I clan camoristici di Acerra avevano progettato un attentato con un bazooka contro la sua auto blindata. Il luogo scelto per l'esecuzione era la rampa che dal centro direzionale di Napoli porta verso i paesi vesuviani dove abita il procuratore aggiunto. Il piano era stato progettato nel carcere di Secondigliano. Poi non se n'era fatto più niente perché aveva spiegato un collaboratore di giustizia tra i camorristi aveva prevalso una linea d'azione più cauta. A rivelarlo, è stata proprio un'intercettazione ambientale finita nell'ordinanza di custodia cautelare con cui sono stati motivati i 23 arresti firmata dal GIP di Napoli, Fabrizio Finamore. Non ce l'ha fatta Antonio Liguori, si è spento a 22 anni. Il giovane è morto ieri sera all'ospedale Ruggi d'Aragona in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto la notte tra l'11 e il 12 ottobre in via dei Marinis a Cava dei Tirreni. Era in compagnia del suo amico Andrea che sarebbe adesso in ripresa ad accomunarli l'amore per la Salernitana. Tanti gli striscioni in supporto dei due ultra apparsi in questi giorni in città. Molti tifosi che in queste ore si stanno recando in ospedale per stare vicini alla famiglia del giovane e alla sua fidanzata. Nuovo allarme e inquinamento nel fiume Sabato. in Irpinia il comitato denuncia altri sversamenti abusivi. Intanto giovedì ci sarà un incontro in prefettura con i sindaci del territorio. Sentiamo. Non deve calare l'attenzione sulla Valle del Sabato. Dopo il ruogo all'ICS c'è stata grande mobilitazione e clamore mediatico. Ma i problemi sono ancora tutti lì. Il comitato Salviamo alla Valle del Sabato riaccende i riflettori sulla schiuma bianca che ciclicamente ristagna nel fiume. Giovedì anche il comitato sarà presente all'incontro in prefettura con i sindaci del comprensorio. Lotta senza quartieri agli scarichi killer. Non bastano più mappature e questionari. Servono provvedimenti concreti. Tuona Franco Mazza. Che non siano il questionario ulteriori perdite di tempo. Ecco diciamoci le cose come stanno. Si può attingere sicuramente alla provincia ad esempio ma anche all'alto calore per individuare gli scarichi abusivi. Non solo il fiume con i suoi odori nauseabondi. Anche aria e suoli devono essere costantemente monitorati. La questione che ci preoccupa di più sono questi cattivi odori soprattutto in alcune ore del giorno, a volte la sera, molto spesso la mattina sulla qualcosa anche ci aspettiamo provvedimenti perché abbiamo fatto una petizione sottoscritta da 1200 cittadini residenti. Nel momento in cui c'è stato il ruogo, il fumo, la preoccupazione, i provvedimenti, le ordinanze dopodiché è tutto a posto e finisce così. Invece io credo che questo sia un momento molto delicato in cui invece è importante fare ulteriori indagini che riguardano i suoli per capire esattamente che cosa si è depositato a terra. Ancora momenti di tensione in un carcere campano dopo l'episodio registrato da Irola. Questa volta un altro microcellulare GSM è stato rinvenuto e sequestrato nella casa circondariale di Benevento a denunciare l'accaduto è stato il sindacato OSAP. Un detenuto pugliese per non farsi sequestrare il congegno ha inscenato prima un malore poi ha colpito con un pugno al volto un agente di polizia penitenziaria. Trasferito in una cella di isolamento il detenuto infine ha tentato di appiccare un incendio. Minuti di estrema concitazione che si sono conclusi con un intervento degli agenti che hanno immobilizzato il quarantenne che ora sarà denunciato. L'OSAP chiede all'amministrazione centrale di rivedere le lievi sanzioni previste per chi viene trovato in possesso dei microcellulari in cella. Ancora un investimento importante sul territorio salernitano. Apre un nuovo stabilimento della Foodtech, azienda leader nella produzione di macchinari per l'industria alimentare. Applauso agli imprenditori dal presidente di Confindustria Boccia presente all'inaugurazione. Vediamo. 7 mila metri quadri oltre 6 milioni di euro di investimento inaugura a Salerno il nuovo stabilimento della CTI Foodtech, azienda leader nella produzione di macchinari per l'industria di trasformazione alimentare. Un segnale importante per la campagna che si inserisce in un piano strategico di sviluppo imprenditoriale che prevede un ampliamento del mercato e un ammodernamento. È un valore importante per l'intera comunità. Apre le porte agli investimenti, alla crescita. È una dimensione non solo interna all'impresa ma per tutta la comunità. E al sud tra l'altro vale anche doppio. Nella nostra Salerno, che è la mia città, come dire, ancora di più perché ci siamo legati chiaramente a un filo rosso, come dire, di cuore e di passione. È una storia d'Italia, specchio del paese. È un'Italia che vuole reagire ed investire, speriamo, in una politica economica coerente che non metta ansia all'impresa. Si continua dunque ad investire sul territorio e sui suoi talenti con la volontà di puntare alla leadership mondiale dei mercati di riferimento. Noi, che abbiamo una vocazione all'internazializzazione ma anche all'innovazione, in questi momenti di crisi pensiamo a inventare nuove cose, a preparare il terreno per domani e abbiamo qui una piccola fucina di talenti. Noi siamo il leader in Spagna, in Cina, in Grecia siamo abbastanza posizionati bene e la maggior parte delle cose che noi acquistiamo è in Italia. Stiamo cercando di creare anche un bacino di fornitori, anche locali, però noi non disdegniamo di comprare il meglio e quindi dovunque, diciamo, la qualità, la nostra qualità deve essere... Noi costruiamo qui, con molte ore di fatica, un prodotto industriale ma che è un prodotto con molta artigianalità. è una piccola Ferrari delle denocciatrice, in testa alle aziende dove noi lavoriamo ci sono le nostre macchine, a Vale ci sono migliaia di operai. Se le macchine non sono affidabili le aziende non vanno bene. Truffatori in azione in Irpini a Grotta Minarda, vittima una coppia di anziani coniugi che dopo aver ricevuto una telefonata dal finto nipote che chiedeva di ritirare un pacco a lui destinato a previ pagamento di 4.800 euro hanno consegnato la somma al ma vivente che di lì a poco si è presentato a casa e appena in possesso del denaro si è dato alla fuga. Insospettiti, i malcapitati hanno contattato il familiare e solo a questo punto non hanno avuto più dubbi sul raggiro in cui sono purtroppo incappati e non hanno esitato a sporgere denuncia ai carabinieri. Hanno occupato la sala giunta del comune di Benevento, gli ex dipendenti dei consorsi di Bacino rivendicano una soluzione alla loro vertenza ultradicennale. Il servizio non è ancora pronto, andiamo avanti. È iniziato a Salerno il montaggio della ruota panoramica per le luci d'artista, verrà inaugurata il prossimo 15 novembre, giorno dell'accensione delle luci. Intanto è polemica tra i vigili urbani che denunciano carenze d'organico. Torna una delle attrazioni più attese dell'evento, luci d'artista. È iniziato il montaggio a Salerno della ruota panoramica di proprietà della famiglia Tulinieri. Verrà installata come negli scorsi anni nel sottopiazza della Concordia. Turisti e visitatori potranno avere un punto di vista privilegiato sulla città e le nuove luminarie da ben 55 metri d'altezza. Oggi si inizia il montaggio della ruota panoramica che inaugurerà il 15 novembre insieme alle luci d'artista. Quest'anno luci d'artista tutte nuove. Siamo felici in questo bellissimo clima estivo che bacia il montaggio. Siamo sicuri che per novembre avremo proprio quel fresco in più che ci va da corollario ad uno splendido Natale. Si avvicina l'evento luci d'artista e non mancano le prime polemiche. I vigili urbani denunciano. Siamo all'osso, a rischio, le luci. Nelle prossime ore l'incontro con il comandante e il comune. Intanto ai microfoni di Otto Channel, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, precisa. Basta speculazioni. C'è rispetto per le prerogative dei lavoratori, delle maestrate. Ci mancherebbe altro ma ci attendiamo senso di responsabilità e capacità di essere figli della città di Salerno. Noi facciamo il nostro compito, il nostro dovere in un modo responsabile, ma la responsabilità non può essere solo dell'amministrazione, deve essere di tutti. Noi siamo ragionevolmente attenti. Speriamo che non ci siano azioni pretestuose, ma io lo escludo. E torniamo adesso a Benevento, dove gli ex dipendenti dei consorsi di Bacino hanno occupato la sala giunta del comune in segno di protesta. Vediamo. Prima dei lavoratori della Samte ci siamo noi, lo impone la legge. È in breve la rivendicazione degli ex dipendenti dei consorsi di Bacino che da dieci anni lottano per il loro lavoro e che questa mattina hanno occupato simbolicamente la sala giunta del comune di Benevento. Siamo qui per far ricordare alle istituzioni, a tutti coloro che in queste ore sono a Napoli per risolvere la situazione dei dipendenti della Samte, che la legge regionale vincola al completo riassorbimento dei dipendenti dei consorsi di Bacino. Dei 120 operai protagonisti della storica vertenza, attualmente sono circa 60 quelli che ancora attendono una soluzione. Non possiamo essere dimenticati, spiegano contestando l'ipotesi avanzata che vorrebbe ricollocare presso diverse società regionali gli operai della Samte per i quali tra qualche giorno saranno operativi licenziamenti. Ci sono persone che avevano un'età e adesso sono diventati nonni. C'è chi come me tanti altri a dei figli che stanno crescendo. Questa situazione non è moralmente sostenibile. Io non posso consentire da genitore, così come tutti quanti gli altri, che questo stato di cose continui perché i miei figli hanno diritto, i nostri figli, i nostri nipoti, noi stessi abbiamo diritto ad avere un'opportunità che ci è garantita per legge. Questo è quello che chiediamo e siamo stanchi di giochi e giochini. L'annosa questione di come conciliare etica ed economia globale al centro di una lezione che il professore Paolo Ricci ha tenuto con gli studenti dell'Amabile di Avellino. Vediamo. Incontrare i giovani è normalmente fonte di emozione, incontrarli nel contesto nel quale tu hai vissuto da giovane è ancora di più l'emozione. C'è? Un'emozione particolare è quella del professor Paolo Ricci nel parlare agli studenti dell'Istituto Amabile di Avellino in quella che è stata la sua scuola. L'ordinario di Public Accountability alla Federico II ha presentato il suo libro Bilancio in valore, quanto costa un'ora di gioia. Come superare la fredda economia monetaria inserendo indicatori di rilevanza sociale difficilmente monetizzabili in modo da costruire uno strumento che orienti le scelte politiche degli enti locali nell'ottica di un'amministrazione eticamente consapevole. Poter misurare anche in maniera provocatoria un'ora di gioia di un volontario e mettere in relazione coi benefici prodotti su un territorio, su una comunità diventa essenziale. Se facciamo riferimento a questo manifesto delle 181 multinazionali dell'agosto del 2019, quindi di due mesi fa, almeno c'è il desiderio di dare una svolta ai paradigmi aziendali. Se sarà genuina questa svolta e soprattutto se avrà successo, solo il tempo potrà dircelo. L'incontro ha aperto il ciclo promosso dall'amabile sul tema scuola-territorio. I ragazzi recepiscono sempre bene queste tematiche al di fuori delle aule scolastiche, è stato un bel dibattito veramente significativo e ce ne saranno altri, ripeto, proprio perché dobbiamo attualizzare le materie di studio. Le domeniche ecologiche non decollano a Benevento, il comune è pronto a correre ripari. Sentiamo. Abbinare alle giornate ecologiche altre iniziative di sensibilizzazione tra la cittadinanza e la proposta della Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Benevento, Romilda Lombardi, all'indomani di una nuova giornata ecologica in città. Ieri infatti l'iniziativa ha coinvolto il quartiere Trigio, il rione Ferrovia, ma senza ottenere i risultati auspicati. Non c'è stata questa adessione che ci aspettavamo, un po' diciamo che le forze dell'ordine sono esigue come numero e quindi devono fare davvero uno sforzo notevole per cercare di limitare quello che è poi il traffico nonostante i divieti. La cittadinanza forse o non è pronta oppure stavamo pensando di far coincidere queste giornate anche con altre campagne di sensibilizzazione come nelle prime giornate. In questo modo forse la popolazione potrebbe cercare di limitare l'uso dell'auto, che poi questo è l'obiettivo principale, in modo da evitare poi la chiusura totale del traffico nella città. Intanto il Comune lavora anche al Plastic Free, argomento al centro della riunione di questa mattina della Commissione Ambiente. Il Comune ha deciso di aderire alla campagna Plastic Free, si inizierà quindi la messa al bando dei prodotti non biodegradabili in monouso, inizialmente negli uffici, nelle società partecipate e anche tutte le manifestazioni che dovranno essere patrocinate dal Comune dovranno aderire a questa iniziativa. L'alta capacità nella strategia di sviluppo dell'Ufita se ne è discusso ad Ariano Irpino sul luogo in cui dovrà sorgere la stazione Irpinia. Vediamo. Sinergia tra collegio provinciale dei geometri, laureati e non, e istituto di istruzione secondaria superiore Ruggero II ad Ariano Irpino. In primo piano l'alta capacità nella strategia di sviluppo dell'Ufita, il riscatto delle aree interne e il ruolo della geometra e delle professioni tecniche. È un sogno poter prendere il treno qui e arrivare a Roma in un'ora e mezza, per fare un esempio. Io ho voluto realizzare insieme all'istituto tecnico ex geometra Ruggero II di Ariano questa manifestazione perché credo nella sinergia tra noi, collegio e scuole, perché crediamo nella formazione dei giovani e quale occasione migliore per illustrare un progetto, per far sì che questo progetto, questa realizzazione poi diventi occasione di lavoro non solamente per questi giovani che si stanno per diplomare. E qui io ho illustrato un percorso formativo che noi vogliamo continuare insieme a loro. Noi come collegio, come ordine professionale a livello nazionale stiamo pensando, l'ho detto prima nel mio intervento, a una laurea professionalizzante che riduca a quattro anni che si faccia in cui questi istituti, il CAT, in collaborazione con l'università e con il nostro Consiglio nazionale, con noi come collegio provinciale e con gli istituti CAT, quindi una laurea che si possa realizzare, fare nei vecchi istituti e quindi portare dei giovani a 21 anni ad essere protagonisti, ad iniziare un'attività o professionale o all'interno delle imprese. E' tutto per questa edizione in regia Aldo Fenizia, adesso ci sono le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti